Allora andiamo, siamo arrivati al settimo concorrente, siamo anche abbastanza veloci, siamo già al settimo, ci colleghiamo subito con il backstage dove troviamo Cristian, Cristian, eccoci qui, eccoci qui, grazie, come vedete caro Walter, sono in compagnia della bellissima Samantha Giordano, la quale ci interpreterà un pezzo suo, infatti mi parlava prima appunto del suo pezzo, ci parli un attimo del tuo pezzo in sintesi estrema, voglio dire due cose, voglio dire un pezzo pop, mi dicevi? Sì, è un brano pop che ho scritto qualche anno fa, molto personale, racconta delle difficoltà verso la fine di una relazione fondamentalmente. D'accordo, quindi adesso entriamo in un argomento molto, voglio dire, di cuore diciamo ecco, il titolo è Un altro passo, giusto? E niente, non mi resta che augurarti in bocca al lupo e dirti un altro passo, ciao a dopo, in bocca al lupo, ciao! Ciao Cristian, grazie, grazie Cristian, c'era un'incursione o sbaglio? Ho visto una figura losca, che tra l'altro l'ho chiamato io, l'ho chiamato io, adesso me lo ritrovo da tutte le parti, ora chi se lo sente? L'organizzatore Franco, che qui mi compare Gianfranco Fino da tutte le parti. Va bene, allora la settima concorrente, Samantha Giordano, vieni Samantha, un bel applauso sempre per incoraggiare tutti i nostri concorrenti, benvenuta, ciao! Concorrente numero 7, che ci canta? Un altro passo. Per te, Samantha Giordano! E' come camminare scalza, su un filo di cielo, sopra questa stanza, mentre l'eco delle nostre parole rimbalza. Perché tra me e te ormai c'è troppa distanza, e non mi servono parole nuove, per dire un'altra volta le stesse cose. Basterebbe soltanto avere la voglia, di varcare finalmente questa soglia. Ma tu non ci sei, e non chiederai mai, com'è stato calpestare me, per fare un altro passo verso te. No, tu non ci sei, e non crederai mai, com'è stato calpestare me, per fare un altro passo verso te. E non ci serve ancora altro da fare, per riempire il nostro tempo neanche fosse banale. E lasciar sciogliere i minuti dentro l'anguide ore, e scolarli alla mia pelle il tuo sapore. E mentre il cuore è piano piano affonda, io credo ancora che tu ti nasconda. E così restiamo qui davanti a questa porta, che chiusa toglie luce tutto ciò che conta. Tu non ci sei, e non chiederai mai, com'è stato calpestare me, per fare un altro passo verso te. No, tu non ci sei, e non crederai mai, com'è stato calpestare me, per fare un altro passo verso te. Ho guardato fino a dentro, fino all'ultimo momento, ogni sguardo mi ha sempre inteso, ogni gesto pensiero che uno dei due si è atteso. Ora resta il cuore che batte sopra l'uscio sospeso, e dondola e cigola piano, il lamento di chi ormai si è reso. Ma basta il profumo di te dentro questo ascensore, a farmi sorridere sola e sentire il sollievo che già con il spazio al dolore. Perché adesso non ha più senso, davvero non conta, facciamo un altro passo in direzione opposta, come se non ci fosse nemmeno mai stata una porta. No, tu non ci sei, e non chiederai mai, com'è stato calpestare me, per fare un altro passo verso te. Grazie. Grazie. Samantha Giordano, grazie Samantha, come è in casa? Beh, molto emozionante. Tu vuoi già scappare, mi stai dicendo dove vado, dove passo, dove è? Da dove si esce? Da dove si esce? Sei contenta? Molto contenta. Questa è la cosa più importante. Grazie. Molto bello, molto bello cantare in questo posto, anche durante le selezioni, è stata una bella emozione. Grazie a chi c'è questa sera. Siamo contenti. Grazie. In bocca al lupo, di qua. Samantha Giordano.